Salve a tutti quanti ragazzi, qui Andrani Mitic con l'equipe del film di Aoni Ebbè, eccomi Anzi no scusate, ebbè, ebbè, ebbè Ok basta Ebbè Allora oggi vogliamo provarvi qualcosa un po' diverso da Minecraft Qualcosa di antico si può dire, di vecchio, di passato Ma che pur semplice regala grandi emozioni E' una merda Cosa è una merda? Vaffanculo, che cazzo mi fai, stronzo Come potete vedere, dallo schermo Vorremmo aprire, aia Vaffanculo, faso I rally ti sono fighissimi Ebbè Il problema è che non calderanno gli FPS Ebbè Certo che non calderanno gli FPS Se tu lagghi, io Ebbè sto registrando, cosa speri di fare Allora ragazzi Uccidati Ah no, devo atterrare, devo atterrare, devo atterrare Ti odio Ho failato, ti odio Ok Insinzi, vorremmo Che voi partecipaste A un nostro piccolo torneo di Tekken 3 online Eh, la lag non sarebbe La lag non è contemplata Ma in questo caso Ecco appunto Sia registrando che ho aperto Fraps e altre puttanate varie Per colpa di Andrelaga Tutta la partita Esattamente Quindi ragazzi Per farla breve Nella descrizione Mi metterò Dove scaricare Tekken 3 Con la spiegazione Fazzica Di come configurare Ma io sono new Buon informare Non so ste cose Non dir puttanare No, 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 no Devi mettere Perché con Snake Avevo quasi risolto la lag Con quella Comunque ragazzi Mi sfidiamo a principare Il nostro Ahia Il nostro torneo di Tekken 3 online Siree precisare Che se cerchiamo gente Con una connessione Molto buona al pc Perché O stare è un po' dura Però è figo con il rallenty No, fa schifo con il rallenty Mi piacerebbe che fosse fluid Poi nei commenti Ci sarà il link per scaricare Se partecipate Avvisatemi per messaggio personale Così posso meno fare un listino Di partecipanti E preparati Una giornata intera Per leggere i messaggi personali Esattamente E vorremmo fare Un torneo almeno A 16 persone Eeeh Se riusciamo a arrivare A serie anche a 8 12, 16 Insomma Anche 2 Intanto lo organizziamo Poi ci pensiamo Possiamo io, te, Snake Già Poi forse viene anche Ale Viene Che non parla Dobbiamo anche decidere Il PG da mannare E poi perché alcuni sono più Tipo No, facciamo che Facciamo una roba più semplice Ogni persona può bannare due personaggi Semplici Facile Ma se non è unico da bannare Sarebbe true ogre Vabbè Benefetto Perché gli altri Siamo sempre un po' di abilità Di utilizzarli Esatto Alla fine true ogre Basta sapere Sputare fuoco Appunto Come hai visto Usando il mio principale Anche io Anche io Però Comunque la lag qua Non riesco a fare un cazzo Sì però almeno vedi Tutta la sequenza dei colpi Quindi Quindi Assumiamo ancora Anche se continuiamo a essere Troppo dispersivi Molto dispersivi Ma cazzo mi mette fullscreen Alto invio Prova Io non lo farei Mentre stai registrando Eh non lo farei neanche io Vabbè Nella descrizione trovate Dove scaricare il gioco E penso che tu l'abbia già detto Tante volte Ma le ho letto un messaggio personale Per Ma va 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 Ma che figo non sono Ma le ho letto un messaggio personale Se volete partecipare Comunque Relaga solo con te E con un altro video Futuro Quando saremo insomma Un buon numero Vi avviserò su come Ci stiriamo il torneo Sì e si può anche fare Da spettatore Esatto Beh possibilmente È meglio di no Perché Già lagga un po' così Sì ma poi facciamo delle prove Per vedere se lagga o no Ma vaffanculo Mi foto perfect Eh perché sono un figlio E ovviamente Il vincitore di questo torneo Vi avviso che participiamo Anche io Fax e Snake Compagnia Bella Quindi Potesse capitare Che conto di me Il primo orante E buttare Sì ma non è giusto Non pubblicare sto video Sennò scoprono Le mie mostse No vabbè Me ne fotti Anch'io presento Le mie mostse segrete Ah io no Vabbè dai No No Io bannerei anche gone Ma perché Ci vuole un po' di abilità Per usarlo Oh non l'agga Questa stessa mafia Che è la grazia E' la grazia E' la grazia E' la grazia Allora io che cado Per terra da solo Perché Ah basta Lasci mi stare Il mio piccolo go Ah ah E' più piccoli figa E' più anziani Se non si permette Perché non mi scorreggia Scorreggia Stronza Ok Beh io mi salto Do sotteno Me ne fotti E' la verità Ti recupero la vita Tranquillamente Che mi raccomando Ragazzi Aspettiamo che sarete in tanti Io la perdo la vita attaccando Tu la recuperi No Bastardo Capì Insomma guarda Come c'è un'ora di video Per dire tre parole Sì insomma E' legge la descrizione Più riassunto Esattamente Ahia Ho chiesto finiamo questa battaglia Tanto per farla vedere Ahia Adoro le codine La codata Ma poi con come dovrebbe colpire con i pugni Cioè non gli arriva non è che oltre la faccia Vabbè andi e concludiamo Finiamolatemi la battaglia Perché la battaglia con c'è poi l'altra Perché comincia bene poi l'altra Torneo di Tech & Ball Non lo facciamo Eccolo Avanti E poi sintesi ragazzi Se siete ancora qui Guardare video Potete scoprire un piccolo messaggio segreto No Il vincito del torneo ovviamente avrà un premio Che fornerò io Che non si sa ancora cos'è però Lo fornerò io So io quale premio Andrè ma da dove lo organizzi da andrei dei miti cosciente video viene Un po' che lo organizzo O massimo il video che è tra le spattare la qualità dei video che è sul canale Sì mamma li faccio i compiti e questo è quel momento più interessante di tutto il video Pallero Vedai ormai Il video sta per finire quando Faso muore Solo perché sei oppi con quel cazzo di serpentino di merda è perché l'arga Non è un serpente uno yoshi Qualunque cosa sia è oppi Ma è fighissimo Cioè Allora anche tu è un micro raghetto Un piccolo Famili alzare Famili alzare Un piccolo Un piccolo Dovakin Un piccolo Draghetto del Dovakin Ma sì ma non mi sputa più fuoco Sputa fuoco Io cado per terra da solo Mi rialzo No basta dai Mi sono appena rialzato Ok hai voluto tu Ma perché non mi sputa più fuoco Sputa fuoco coglione Niente si mette in questa posizione idiota Vabbè Ok ragazzi Video abbastanza inutile ma avete capito il concetto Quindi partecipate 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 Un saluto da Andre Partecipate Da quello stronzo inutile di Snake Ebbè Vabbè Dai facci la frase Dai facci la frase Fagli la frase per i fan Sei Vabbè Fancù Sei vivo morto Sono vicino a tua madre In una posizione molto Ah 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 Grazie a tutti.